Aspetta, 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 che è così. Direttamente da Radio Studio Centrale, in diretta su... No, Tele Studio Centrale, siamo in Honda, in Vision. In Honda, in contemporanea, siamo su Radio Paravati. Ah, Paravati. Ho girato e rigirato, senza sapere dove andà, ed ho cenato a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore. Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? E mi fanno compagnia 40 amiche le mie cari. Anche il mio cane si fa fuori e abbaglia da malinconi. Oh, il cazzo è il sol! Ah, il sol è il cugnone. Aspetta! Qua è il sol, non ti torna, dimmi! Se no, dimmi! No! Ma forse è il sol! No, ma è giusto qua, non dicevo quello... E qua ti lamentavi, non il sol! No! Mi hai guardato la prima volta e la seconda mi hai fermato! È il cugnone, è il cugnone! Qua è il cugnone! E mi hai detto che ti non leggi! Non è che 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 non leggi! Ma l'inconi! Allora! che cazzo hai dimmi! Non è che non leggi! ricordo quando andavo a scuola con la clavietta facciamolo così comunque anche il mio caro vedi che non è solo no è giusto questo e qua manca che suona il solo perché poi di qua hai a scalare prova a fare il il la qua ti non ti ricomincio a te basta cazzo abbaglia qua è giusto o dal do posso andare in fa o il sol per forza e allora è solo tu come vedi dove cammini? chi viene a prenderti? chi ti apre lo sportello chi segue ogni tuo passo chi ti deve guardare e ti domanda adesso tu come stai non è cambiato niente no il tempo non si è mai fermato tra tu e noi tu come stai non è cambiato niente no il tempo non si è mai fermato tra tu e noi è strano è un ragazzino è un cazzo di sol è strano sarà che c'è la polvere sopra? è sposta a mezzo tono domani con domani ma è il demo con la digra di Mario le scuole con po' le scuole no 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 ora faccio questa qua, mi chiedo di mettere ti è venuta quella? come fa? ritorni in giro chiudate non è niente ho sbagliato con te ferma non la so, la troviamo subito e tornerò in ginocchio da te perchè c'è questo? è perchè ha un torretale di merda perchè non ce l'ho in te aspetta e tornerò in ginocchio da te perchè mi sembra che è un minore aspetta aspetta come ritornerlo già? io voglio per me ferma, ferma io voglio per me 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 ehi! in ginocchio da te ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo con te ritornerò in ginocchio da te Sì, io t'avo più della mia vita Sì, io t'avo più della mia vita Però se vogliamo partire ci mancarebbe un accordo Perché Manca una qua Bella, bella, bella L'ultimo rifetto A meno che non arrivi Manca uno Non è Do A meno che Bravo, bravo, quello Perché il Si bemolle mi porterebbe a Fa Ma non sono convinto Comunque Abbiamo tutto improvvisato al buono Diciamo che abbiamo esagerato A memoria è stato muore 3.000 Aspetta 3 secondi 10 Ma Chi era Chi era Filomenia Ma cugina A meno che è stato muore A meno che è stato muore